In Europa, nel Settecento, nell'Ottocento, c'erano i ladri di polli. E perché poi questi ladri di polli si erano trasformati in mafie in Italia? Per capirlo siamo partiti da prima dell'Unità d'Italia, durante il regime borbonico, siamo partiti dalle carceri di Favignana, dove lì venivano rinchiusi, oltre a detenuti politici, anche criminali, calabresi, campani, siciliani, comunque meridionali. E questi delinquenti, comuni o comunque pericolosi, erano analfabeti, ignoranti, non sapevano scrivere, non sapevano leggere, sapevano solo parlare un dialetto stretto che non comunicava con altri dialetti. Infatti, ad esempio, faccio una parentesi, in Argentina, quando bisognava in Argentina scegliere la lingua, gli italiani erano molto più degli spagnoli, ma è stato scelto la lingua spagnola perché gli italiani emigrati in Argentina non conoscevano la lingua italiana. C'erano i veneti, c'erano i calabresi, i campani, i pugliesi, ma non conoscevano la lingua italiana. Quindi è stata scelta, malgrado la maggioranza della popolazione fosse italiana, è stata scelta la lingua spagnola. E allora questi analfabeti, però, erano furbi. Capivano, studiavano i detenuti politici come comunicavano tra di loro. Studiavano, i detenuti, poi dici, il linguaggio cripto. Studiavano e incominciavano a imparare a scrivere. E lì nascono, paradossalmente, i pizzini, i bigliettini con i quali si messaggiava. E abbiamo visto che, come sono stati poi usati, noi andiamo, anche subito dopo il regime borbonico, dopo l'unità d'Italia, 1861, andiamo al 1869, non al 1869. Ci sono le elezioni comunali a Reggio Calabria. Ci sono due liste. Vi faccio questo esempio per capire perché i ladri di Polli sono diventati poi mafia. 1869, ci sono due liste. Una è appoggiata dai borboni e dalla chiesa. Un'altra è appoggiata dall'aristocrazia, dalla borghesia, dai latifondisti. Cosa fanno i latifondisti? Pagano, assoldano dei picciotti per terrorizzare, vessare, spaventare i candidati appoggiati dalla chiesa e dai borboni. Vessare, picchiare gli elettori. Allora era facile individuare chi erano gli elettori perché poteva votare solo il 2% della popolazione, solo di sesso maschile, quindi erano pochissime le persone che votavano. Sono state tale e tante rivestazioni, tale e tanti brogli, anche il questore dell'epoca ha rinchiuso, c'era allora la possibilità di fare una carcerazione preventiva, per motivi di sicurezza si potevano arrestare per sette giorni le persone in celle di sicurezza. Comunque sono stati tale e tanti i brogli che il prefetto dell'epoca ha annullato le elezioni comunali, quindi siamo al 1869, prima elezione annullata in Italia. Quindi, come vedete, la classe dirigente, la classe aristocratica, si rivolge ai picciotti per risolvere un problema politico. E chi erano questi picciotti? Come si chiamavano? Si chiamavano De Stefano, si chiamavano Campolo. Perché vi sto parlando di questi due cognomi? Perché sono gli avi di quelli che poi saranno i capi di mezza Reggio Calabria e di un quarto di Milano. Quindi, Francesco De Stefano all'epoca aveva precedente per porto abusivo di coltello, spendete monete falsa, rissa, furto. Quindi stiamo parlando di ladri di polli. Ma nel momento in cui questi ladri di polli diventano interlocutori della classe dirigente, la classe dirigente sta dando legittimazione, non c'è solo una prestazione di servizio. Io in cambio di soldi tu mi spaventi, mi fai questo lavoro. No, perché poi questo picciotto ha i soldi, diventa ricco, ha legittimazione. La gente sa che gli è stato dato l'incarico, la gente deve sapere che gli è stato dato l'incarico da questi signori del paese, della cittadina. E quindi aumenta il potere. Aumenta il potere di questi picciotti, al punto che poi sono andati ricchi, incominciavano a girare per la città col calesse. Se noi andiamo a studiare il terremoto del 1908, è un terremoto che è stato tra Messina e Reggio Calabria, devastante, sono morte più di 100.000 persone. Cos'è accaduto in questo terremoto? E' accaduto che lo Stato italiano ha fatto una legge sbagliata. ha detto, chiunque vuole costruire, capite che chi era rimasto vivo aveva solo gli indumenti addosso, strappati e pieni di polvere. E le case semistrutte, non c'era nemmeno da mangiare. Lo Stato per risolvere il problema cosa fa? Stanzia 175 miliardi di lire, una somma enorme per l'epoca. e dice, chiunque vuole costruire, ristrutturare la casa, noi gli diamo a fondo perduto il 70%. E lo Stato mette, e tu cittadino, tu che hai avuto il danno, paghi il 30%. Uno dice, buono, il 70% di fondo perduto è buono. Ma se io ho solo gli indumenti addosso, se io non ho i soldi per mangiare, questo 30% dove lo trovo? Quindi è una legge sbagliata dello Stato. Perché la picciotteria, la struttura embrionale di quella che poi sarà Andrangheta, perché noi la prima volta che leggiamo il termine Andrangheta è nel 1920, ancora 30 anni prima rispetto a quando noi abbiamo ripetuto per 50 anni, abbiamo ripetuto che la prima volta che sentiamo il termine Andrangheta è nel 1951, quando Corro d'Alvara ha scritto un articolo sul Corriere della Sera parlando di Andrangheta. Ma noi abbiamo trovato un documento proprio nell'archivio di Stato di Reggio Calabria del 1920 dove abbiamo letto per la prima volta il termine Andrangheta con la I, perché Andrangheta è poi italianizzato. Andrangheta vuol dire uomo coraggioso, uomo valoroso, deriva dal greco Andranghetos. Allora, cosa fanno? Ci pensano, ci pensano, la mano nera di New York. La mano nera che era anche lì una struttura embrionale di quella che poi sarà Cosa Nostra, dove in realtà era piena di calabresi e campani, la mano nera di New York. E vengono da New York e si insediano tra Palmi, c'è una cittadina a 60 km da Reggio Calabria a lato Martirreno, tra Palmi e Reggio Calabria, e incominciano a creare un banco, cioè creano delle banche, tra virgolette, cioè delle agenzie illegali, e prestano soldi e usure. Dice, non ti preoccupare, tu intanto fai l'istruttoria, ottieni quel 70%, e poi quando sarà ora questo 30% ce lo restituisci con gli interessi. E quindi sostanzialmente con questa legge non abbiamo fatto altro che arricchire la picciotteria. Ma se noi andiamo a studiare tutti i terremoti, tutti i disastri che ci sono stati in Italia, vediamo che le mafie sono presenti dove c'è da gestire denaro e potere. Se noi andiamo a studiare il terremoto di Napoli, il terremoto in Irpinia, dove lì c'è stata un'escreation dal punto di vista criminale, la nuova Camorra organizzata, la Camorra, le vecchie famiglie della Camorra, poi quello che costruisce Cutolo, e se poi vi interessa vi dico come, perché Cutolo ha mutuato e ha avuto le doti dell'Andrangheta per formare la nuova Camorra organizzata, perché in cambio Ida Stefano gli avevano chiesto di uccidere un boss nel carcere di Poggio Reale ed è stato così, è stato fatto da due castolani per conto di Cutolo e in cambio ha avuto le doti da parte dell'Andrangheta per formare la nuova Camorra organizzata. Ma, e quindi vi dicevo, se noi andiamo a studiare tutti i terremoti, anche adesso, se noi andiamo a studiare il terremoto in Umbria, vediamo che lì in Drangheta e Camorra sono stati presenti, in Emilia Romagna lo stesso, cioè quindi le mafie sono presenti dove c'è da gestire denaro e potere e le mafie sono presenti, saranno presenti nel post-Covid.